...magica, mi auguro di fare un bel regalo a Matteo Vecchia, di fare un bel regalo alla tettica italiana e speriamo che questo... Sì, sì, no, c'è una grande prestazione, scusate, ci stavamo coordinando con il suo Maurizio perché c'è una notizia che forse è passata sotto gamba, in realtà noi, diciamo, chiamiamoli tecnici in realtà ma ce ne siamo accorti e ce ne accorgeranno tutti, la diciamo in diretta Eh sì, diamo in diretta, deve essere, dovrà essere la gara di Crippa, di atleti di quel livello, gli stranieri, gli australiani, eccetera per ora, dico con orgoglio e anche con un po' di emozione, appartenendo alla categoria Master, come te Fabio che è stato appena realizzato nella seconda batteria Elite, il record del mondo Master, categoria M45 è stato realizzato da un fenomeno, un vero fenomeno, oltre ad essere un ragazzo, un ragazzo di 47 anni d'oro che risponde al nome di Davide Raineri, aveva 4,1390, stasera ha fatto 4,1030 nuovo record del mondo, in realtà l'ha portato via se stesso, tre secondi abbondanti di miglioramento, spettacolare beh, diciamo che le premesse non sono male no, non sono proprio male, se adesso anche gli Elite ci fanno questa sorpresa, siamo felici ho un po' i brividi, non per la temperatura che sta scendendo ok, gli andrò a posta quindi 4,10 e 30 secondi 4,13 secondi, un record del mondo, categoria M45 e questi sono i pochi d'artificio di questa sera intanto, la seconda serie, dopo la prima serie del Diego, del Diego, sta entrando in campo sempre dall'Australia